Al di là del risultato tecnico, del valore tecnico, al di là della partita di calcio, c'è una partita straordinaria che noi non potevamo, volevamo giocare e soprattutto la volevamo vincere in modo convincente. Questa partita l'hanno vinta i tantissimi tifosi che si hanno accolti in maniera straordinaria e credo che questo dia ai nostri ragazzi un'iniezione di grandissimo entusiasmo, di fiducia verso il futuro. Volevamo questo, volevamo fare un dono, consegnare un dono ai nostri tifosi, mancavamo da oltre 18 anni qui negli Stati Uniti e credo che i ragazzi con questo dono hanno ricevuto una ricompensa straordinaria, un pieno di grande, grande energia. Il calcio è un elemento di grande aggregazione, nelle sue molteplici dimensioni ne ha una che è fondamentale, che è l'attività sociale. Molte volte confondiamo l'aspetto sociale con la socievolezza, che sono due aspetti diversi. Noi dovremmo forse lavorare un po' di più, visto che il sociale appartiene alla capacità di stare insieme tra uomini, anche le formiche sono sociali, anche le api sono sociali. Noi dobbiamo riscoprire il senso e il bisogno di stare insieme agli altri in condizioni ideali e rivendicare quel ruolo, cioè scoprire la nostra capacità di relazione, che purtroppo negli ultimi tempi abbiamo perso e devo dire che la pandemia non ci ha aiutato. Noi dovremmo forse lavorare un po' di più, visto che la pandemia non ci ha aiutato.